Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale all'1 e 12 minuti. In questo momento cominciamo subito con il punto sulla pandemia. Ancora purtroppo in salita il numero dei nuovi contagiati hanno superato quota 50.000. In crescita anche l'incidenza e il numero dei ricoveri. Anche la soglia critica delle terapie intensive comincia ad essere superata a 144. Le vittime nelle ultime 24 ore è in vigore il nuovo decreto festività che prevede tra le altre cose quando si tornerà a scuola per tutto il personale scolastico e gli studenti l'obbligo di mascherina FP2 qualora in classe vi fosse una persona esonerata dall'uso della stessa mascherina. Non si ferma la corsa del Covid. Oggi si è toccato un nuovo record di contagi, più di 54.000, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Ieri i tamponi in vista del Natale sono stati tantissimi, quasi un milione, ma sale anche il tasso di positività ormai ben sopra il 5%. Gli attualmente positivi superano il mezzo milione, molte, anche le vittime, 144. Sono in lenta, ma continua crescita anche i posti occupati in terapia intensiva, sopra mille e anche quelli nei reparti ordinari che segnano un più 80. Durante la settimana che sta per finire è stata superata la prima soglia critica di occupazione delle terapie intensive a livello nazionale. Nel verbale dell'ultima cabina di regia si chiedono ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica in Calabria e Friuli Venezia Giulia. Ma anche oggi, per quanto riguarda i nuovi positivi, la regione più in difficoltà è la Lombardia, che ne conta oltre 17.000, il triplo rispetto al Veneto che supera i 5.411, le regioni con più di 1.000 casi al giorno. Si prova a frenare la curva con il vaccino, sono arrivate a 17 milioni le terze dosi, con la gente in fila nel giorno di Natale, ma anche con il nuovo decreto emanato dal governo. Dal 10 gennaio, obbligo di Super Green Pass per entrare in palestre, musei, cinema, palazzetti, sale e gioco. Oggi, record di certificazioni verdi scaricate 1.700.000. Sempre dal 10 gennaio, la struttura commissariale dovrà fornire mascherine FFP2 a personale scolastico e studenti nelle classi, dove ci sono alunni esonerati dall'obbligo di dispositivi di protezione. In tutta Europa dilaga la variante Omicron. Oggi la Francia, dopo la Gran Bretagna, ha superato il record di 100.000 nuovi casi in una giornata. Paesi come la Germania e la Spagna preparano nuove misure di contenimento. In tutto questo, ovviamente, risentirne il settore del turismo, che in questo periodo doveva essere più che altro rilanciato, e invece sono stati cancellati in tutto il mondo ben 6.000 voti. Voli. Regno Unito, che da ieri è in testa alla triste classifica dei dicessi causati dal Covid-19. Qui le vaccinazioni sono continuate senza soluzione di continuità, almeno in Inghilterra, negli altri tre paesi del Regno. Le cliniche vaccinali erano chiuse. A Londra e dintorni, in scena anche Babbo Natale e gli Elfi, per vaccinare chi è rimasto indietro. Molti volontari hanno rinunciato al giorno di festa. 122.000 comunque nuovi contagi e 123 le morti nelle ultime 24 ore. Anche la Francia è in allarme rosso. Oltre 100.000 nuovi casi hanno costretto il presidente Macron a convocare per lunedì l'ennesimo Consiglio di Difesa. Qui la variante Omicron corre ad alta velocità di penetrazione, così come in Portogallo. Il 61,5% dei casi di infezione nel paese è riconducibile alla nuova veste del virus. Nonostante il Portogallo sia tra i più vaccinati del pianeta, ricoveri e decessi sono comunque in diminuzione. A conferma che il muro composto dai vaccini in qualche modo sta tenendo comunque nuovamente obbligatorio lo smart working, l'allungamento delle vacanze natalizie per le scuole e la chiusura di bar e ristoranti. Non si arresta ma perde efficacia dopo le drammatiche settimane d'inizio inverno. La situazione in Russia, 25.000 casi in 24 ore, ma quasi 1.000 le vittime, cifra comunque più bassa dallo scorso ottobre. Omicron spaventa anche Israele. Le autorità invitano a completare il ciclo vaccinale prima che la quinta ondata dell'epidemia diventi uno tsunami. Buone notizie invece dall'India, con un abbassamento dei contagi definito sorprendente dalle fonti mediche, che a breve potrebbero chiedere restrizioni solo per chi non è ancora vaccinato. Preoccupa invece l'Argentina, con 16.000 casi nelle ultime 24 ore ed un totale di vittime che ha superato quota 120.000. Ci sono stati altri due naufragi nel mare Geo, due barconi diretti verso l'Italia, si sono inabissati, 27 le persone scomparse, erano appunto diretti verso l'Italia, come altre imbarcazioni che sono partite in queste ultime ore. Dalla Libia una ha chiesto soccorso mentre si trovava a largo di Malta, ma ancora non è stata individuata. Due naufragi con morti in poche ore, almeno 27 vittime nel mare Geo. Tra queste ci sono anche donne e bambini, annegati nel tentativo disperato di raggiungere l'Europa. Il primo barcone è affondato nei pressi dell'isola di Paros. La guardia costiera greca è riuscita a mettere in salvo più di 60 persone, ma per altri 16 migranti non c'è stato nulla da fare. Stesso, tragico, copione anche a largo di Antichi Tera, con un altro barcone carico all'inverosimile di migranti, affondato e con i soccorritori costretti a recuperare dalle acque 11 corpi senza vita. Tragedie che non hanno impedito ai trafficanti di essere umani di far partire altre imbarcazioni dalle coste libiche, nonostante le cattive condizioni del mare e meteorologiche, le segnalazioni di pericolo e le richieste di soccorso sono arrivate anche in queste ore. La piattaforma telefonica che raccoglie gli SOS dei migranti, Alarm Phone, ha segnalato la richiesta di aiuto di un'imbarcazione con a bordo 25 persone in area SAR-Maltese. Le ricognizioni aeree della guardia costiera non hanno però dato esito e il timore è che la barca possa essere affondata. Altra segnalazione di pericolo per un'imbarcazione carica di 108 migranti che si troverebbe a largo delle coste calabresi. Senza sosta anche l'attività di salvataggio dei volontari di Sea-Watch. Quattro interventi, in poco più di 30 ore l'ultimo, ha permesso di soccorrere e salvare altri 78 migranti. A bordo della Sea-Watch 3 adesso ci sono 350 persone. In attesa di un approdo anche i 558 migranti a bordo della Geo Barents, imbarcazione di medici senza frontiere. Il porto di Trapani è stato questa mattina il punto di approdo per Ocean Viking, la nave dell'ONGSOS Mediterraneo, con 114 migranti a bordo. Uno sbarco nel pomeriggio anche in Salento e 5 interventi in poche ore a Lampedusa. 135 migranti sono stati messi in salvo e si trovano adesso nel centro di accoglienza dell'isola. E della tragedia dei migranti è tornato oggi a parlare Francesco, Papa Francesco, nel suo discorso, prima della benedizione Urbi e Torbi. Bergoglio ha puntato il dito sull'indifferenza verso chi soffre come migranti o verso chi lavora in condizioni di schiavitù o in mancanza di sicurezza e troppo spesso perde la vita sul lavoro. Poi ha ricordato i troppi conflitti risolti e dimenticati dal Myanmar all'Ucraina, dal corno d'Africa alla regione del Sahel. Infine, la pandemia è la netta separazione che si sta creando nel mondo tra chi può accedere ai vaccini e chi, ancora troppi, invece non riesce ad averne. I poveri e gli ultimi, come sempre, sono al centro del pensiero del Papa che oggi ha parlato anche della violenza sulle donne. Ha chiesto alla politica, di fronte alla crisi globale data anche dalla pandemia, di trovare soluzioni che non spingano le nuove generazioni verso facili scorciatoie. E ci sarà un lungo viaggio che ci porterà forse all'origine della nostra storia. È cominciata oggi una nuova era dell'esplorazione spaziale dalla base della Guyana francese. È stato lanciato il razzo Ariane 5 che trasporta il telescopio web, il più grande e potente mai realizzato. Un sogno diventato realtà per tutti gli astronomi e gli studiosi. È frutto di una collaborazione tra la NASA e l'ESA, stazionerà 1,5 milioni di chilometri dalla Terra per esplorare le galassie più lontane. Webb è una sorta di macchina del tempo che cercherà di arrivare a scrutare la cosiddetta alba cosmica, cioè il momento in cui le galassie hanno cominciato ad illuminare l'universo dopo il Big Bang circa 14 miliardi di anni fa. Arriverà a destinazione tra un mese e sarà operativo a maggio. Tra i suoi compiti c'è lo studio dei pianeti non appartenenti al Sistema Solare e dunque anche la possibile scoperta di corpi celesti simili alla Terra con condizioni favorevoli alla vita. Chissà, magari ci aiuterà a scoprire se nell'universo non siamo soli. È l'1.20, noi ci fermiamo qui. Ancora tanti auguri. L'informazione, come sempre, torna domani. Arrivederci. L'informazione, come sempre, torna domani.